Horizon 2 Forbidden West è stata una gran bella sorpresa, su questo non ho dubbi, un'esperienza molto meglio gestita e strutturata rispetto al primo capitolo e che mi sono goduto con grande piacere. Mi sono divertito molto di più a esplorare il mondo di gioco, affrontare creature, robotiche e nonne si è rivelato più appagante, la narrativa ha saputo affascinarmi grazie ai suoi colpi di scena e a un ritmo decisamente più incalzante e il comparto tecnico sfoggiato dall'opera mi ha lasciato a bocca aperta. In tal senso mi è dispiaciuto parecchio che la creatura di casa Guerrilla Games sia stata dimenticata piuttosto in fretta dal pubblico, in maniera non dissimile da quanto ho visto con il primo Zero Dawn, ma ciò onestamente non è che mi sorprenda più di tanto, anzi, era facilmente prevedibile. Pensateci, hai una nuova IP, un nuovo brand di punta dell'ecosistema PlayStation, quale modo migliore di spingere le vendite se non facendolo uscire insieme a Breath of the Wild? E pensa un po', visto che la prima volta ci è andata così bene, perché non ripetere il tiro? Geniale! Risultati deludenti o meno, sta di fatto che l'opera piacque parecchio al pubblico, e al fine ultimo di massimizzare i risultati, la Software House fece sapere che il titolo avrebbe visto il sopraggiungere di un'espansione a tutto tondo pensata per ampliare ancora di più l'esperienza. E considerando che già il DLC Frozen Wilds del capitolo originale fu una bella bombetta, attendevo questo contenuto aggiuntivo con grande curiosità. Tra svariate novità ludiche, una nuova mappa di gioco e tutta una storia inedita, i contenuti sembravano decisamente all'altezza delle aspettative. E cavoli, non sono rimasto deluso. Horizon Forbidden West Burning Shores si colloca subito dopo il finale del gioco base. Non voglio entrare troppo nel dettaglio per evitare qualsivoglia spoiler. Vi basti sapere che la nostra Aloy verrà informata di un misterioso e pericoloso individuo dalle intenzioni tutt'altro che pacifiche che si aggira vicino ai resti di Los Angeles. Ovviamente andremo a indagare, ma una volta giunti in prossimità del nostro obiettivo verremo abbattuti, salvandoci giusto all'ultimo e iniziando così la nostra caccia all'uomo. Da qui avrà quindi inizio la nostra nuova avventura, un viaggio particolarmente piacevole che sfogge una storia capace di fare il suo dovere. Ho seguito la sceneggiatura con interesse, vuoi per un antagonista che mi stava parecchio sulle palle, che ci tengo a specificare per un cattivo e un'ottima cosa? Vuoi per una vera e propria coprotagonista con cui vivremo l'intera espansione che mi è piaciuta non poco. Il rapporto che si andrà a sviluppare insieme ad Aloy funziona molto bene all'interno delle vicende narrate e al netto di critiche abbastanza sterili che ho letto in giro, il legame che va intrecciandosi tra le due mi è parso ottimamente sviluppato. Il ritmo delle vicende è inoltre piuttosto incalzante, dopo una fase iniziale pensata per farci conoscere un po' i vari personaggi presenti, il titolo tira dritto per la sua strada senza mai fermarsi. Insomma, niente allungamenti di brodo o momenti di stanca che alla lunga avrebbero potuto annoiare. Ancora tremori pensando a Zero Dawn e a tutta quella guerra politica di metagioco dove le palmi si trasformarono in angurie. Va detto però che questo Burning Shores è una sorta di punto di contatto tra Horizon 2 e un futuro terzo capitolo. Quello che avviene in questo DLC rappresenterà la base per Horizon 3, il che lo rende nei fatti un vero e proprio finale a pagamento. Non proprio il massimo. Da un punto di vista prettamente ludico, il gioco presenta ogni elemento che potremmo vedere con Forbidden West, seppur il tutto caratterizzato da qualche differenza quella. La Los Angeles di questo DLC offre un'ambientazione molto verticale con diverse isole sparse in mezzo al mare liberamente esplorabili, il che incentiva parecchio l'utilizzo di macchine volanti per spostarsi in giro. Proprio il volo assume un ruolo di primaria importanza in game, il che mi ha fatto molto piacere. Nel gioco base si poteva svolazzare solo negli ultimi istanti dell'avventura. Fu una meccanica che provai solo di striscio su una mappa non pensata specificatamente per farlo e viverla invece ora così intensamente è stato un piacere. Il gusto di volare tra i resti dei grattacieli, lo splendore di muoversi tra le nuvole, la curiosità di aggirarsi sotto lo strato di terra alzatosi per i terremoti e trovare luoghi nascosti tutti da scoprire non ha prezzo. Viste le dimensioni abbastanza contenute della mappa, il team è stato particolarmente attento nell'arricchirla a dovere, con missioni opzionali e collezionabili vari sparsi un po' ovunque. La mappa di Burning Shores si espande tra l'altro anche sul fondo marino, con degli scenari piuttosto intricati ed esplorabili sia a bordo di una barca che tramite una nuova macchina, ma la loro utilità è praticamente nulla. Le zone sott'acqua non servono letteralmente a niente, se non giusto in un paio di missioni specifiche, il che mi è perso un po' uno spreco considerando quanto lavoro è stato posto in tal senso. Parlando di novità, le nuove macchine presenti sono tutte bellissime, da questi piccoli bastardi che ci attaccheranno in gruppi numerosissimi, a delle rane giganti sparacido, resistenti come carri armati, e le ulteriori abilità sbloccabili per Aloy arricchiscono ulteriormente l'esperienza. Affrontare robot è sempre stato divertente in Horizon, e anche con questo DLC la musica non cambia. Le nuove armi e opzioni disponibili nell'albero delle abilità rendono il combat system ancora più frenetico e divertente contro le creature robotiche, che tra punti deboli sparsi ovunque, armi staccabili da utilizzare contro di loro, e un design visivo semplicemente splendido, sono una godura da combattere, seppur gli scontri con gli umani rimangano l'anello debole dell'esperienza. Colpa soprattutto di un'intelligenza artificiale non proprio esaltante. Merita poi, una menzione tutta sua, il boss finale, o per meglio dire il combattimento finale nella sua interezza. Ovviamente non farò alcun tipo di spoiler, ma sappiate che è stato un qualcosa di incredibile, probabilmente un primo vero assaggio di ciò che potremmo aspettarci da un Horizon 3 completamente next gen. Dobbiamo inoltre parlare anche della componente tecnica di Barney Shores, e di tutto ciò che ne è conseguito, con l'annuncio che l'espansione sarebbe uscita solo su PlayStation 5, lasciando indietro tutti coloro che giocarono alla versione PS4 di Forbidden West, in quanto la produzione sarebbe stata così tecnicamente incredibile da non poter assolutamente girare su una console old gen. E quindi, è davvero così? Questo DLC è davvero così tecnicamente avanzato da non poter vedere la luce su PlayStation 4? No. Sia chiaro, Barney Shores è un vero e proprio spettacolo, meraviglioso sotto ogni aspetto, e capace di offrire scorci indimenticabili. Ma anche il gioco base era in grado di offrire tutto questo, e quello su PS4 c'è arrivato e come. Poi certo, questa espansione presenta anche delle migliorie tecniche, le nuvole sono incredibili, la modellazione del terreno è fantastica, la distanza visiva è notevolmente aumentata, ma non vi è nessun elemento tale da giustificare la sua assenza sulle vecchie console. Bastava porre qualche limite in più nella versione del DLC per macchine di vecchia generazione, in maniera non dissimile da quanto fatto per lo stesso Forbidden West, e il gioco era fatto. Anche la boss fight conclusiva, per quanto maestosa su PS5, con qualche limite e trucchetto sparso, avrebbe potuto funzionare senza problemi su PlayStation 4. Chiaramente la scelta è stata presa per spingere le vendite della nuova console Sony, soprattutto ora che è facilmente reperibile, e per quanto possa capire che ora sia giunto il momento di mandare in pensione le nostre vetuste PS4, cazzo. Non farlo con il DLC di un gioco uscito su PS4! Indipendentemente da tutto, Burning Shores è un'esperienza che qualsiasi amante del gioco originale non dovrebbe lasciarsi scappare. Siamo davanti a un vero e proprio Forbidden West in miniatura che funziona perfettamente dall'introduzione fino ai titoli di coda. Bello da giocare, splendido da vedere, un viaggio che nelle 12-13 ore, volute mici per completarlo, ha saputo farmi godere non poco, indubbiamente 20 euro ben spesi. Ora però si guarda al futuro, al futuro del brand, certo, un Horizon 3 presto tardi me lo aspetto, ma prima vorrei avere altro, un po' di varietà in casa Guerrilla Games non farebbe certo male, e visto che a quanto pare secondo Sony l'intero ecosistema PlayStation non potrebbe esistere senza Call of Duty, perché non concentrarsi proprio su qualche nuova IP sparatutto? O magari, perché non dare nuova linfa vitale a un FPS noto? a un FPS noto?